Le dimissioni del governo, la nomina di un premier ad Interim e l'avvio delle consultazioni non sono bastate. In Romania, per la terza notte consecutiva, continua la protesta contro la corruzione. A scatenare la rabbia, la tragedia della discoteca Collective di Bucharest, ma da tempo all'opinione pubblica chiedeva la testa del premier Victor Ponta, sotto inchiesta in due diversi procedimenti, per riciclaggio di denaro, corruzione e falso. Forse avremo elezioni anticipate. Bisogna leggere le liste dei candidati con estrema attenzione e dire ai più giovani che hanno il nostro sostegno, ma che devono stare attenti, affidarsi e a votare. Sarà l'ex ministro dell'educazione Sorin Campeanu a garantire la gestione ordinaria della Romania, in attesa che sia formato un nuovo governo. Ho discusso con i leader di tutti i partiti politici. Io ho chiesto il loro sostegno per continuare questa missione, che a mio parere è difficile. Il dialogo è importante, perché la Romania è e deve rimanere un fattore di stabilità. Alle consultazioni per il nuovo premier, annunciato il presidente Klaus Ioannis, è stata invitata a una delegazione dei manifestanti in rappresentanza della società civile. L'ipotesi e elezioni anticipate potrebbe prendere corpo se il Parlamento bocciasse per due volte i premier incaricati dal capo dello Stato.